E' un minuto. Dammi un minuto. Se non ti rispondo è perché non voglio che ci vediamo, no? Ma come non vuoi che ci vediamo? Adesso tu ci dici che cosa hai in testa. Piacere, Morat. Mio fratello Rashid. Vieni con noi, Marocco. Vieni con noi, Marocco. Vuoi assaggiare? Vieni, Vic. Ci vogliamo, Marocco. Che cose succedono perché devono succedere? Il mktub è destino. La strada che hai preso è la tua. Non devi rendere conto a nessuno. Noi due faremo grandi cose. Mi scioglie. Ti stai nascondendo qualcosa. O paghi i debiti, o paghi i debiti quando esistono. Non mi toccare! Stai di me! Sei solo un ragazzino del cazzo. Posso fidarmi di te? Non mi toccare! Che cosa hai? Ti stai nascondendo? Non mi toccare!